Ciao a tutti ragazzi, io sono Merlocraft e oggi siamo qui in un nuovo episodio di Pokémon Smeralda! Viena! Allora, dall'ultimo episodio vi sono ex fatto un po' i Pokémon e mi sono allenati un poco e sono entrata più sbaglio qui nella palestra ragazzi, questo dovrebbe essere di una banca via e non so, adesso sta succedendo qualcosa quindi ve lo faccelo vedere ma scusate, questo non l'ho fatta vedere con questo è entrato, mi ha detto, hai fatta di stare a guarda sull'inizio vorrei un po' andato da con i miei parenti vorrei un po' ok, fuori un po' hai sentito? Sì, è sentito guarda lì da qui ho un po' questo è un po' ho usato un po' un po' più ok, non c'è un po' non c'è un po' non c'è un po' adesso che sto cacciando un po' non c'è un po' ok, sì, non c'è un po' 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 ora si può vedere cosa ci fa sono sovi non c'è un po' questo ti fanno tutto non c'è un po' ho pagato si, ok ciao Ok, 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 ok. di la 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 Ho usato magari tutta questa casa, mi sono trattate in chiesa, va. Se non è l'altro, se sono l'altro, o no? Non so se fai, se non sono... Se sono l'altro che ci piace, se sono l'altro che ci piace. Ehm... Vado in giro a ricevere un altro in gamba. Ah! Ah, vabbè. Beh, la sua divisa, ah, ok. Per cui la sua 104, ok. Allora, vado un attimo a vedere se il Pokémon può situare su questo percorso. C'è una cosa interessante che ha il 10% nell'errope del primo Pokémon, è più pure edLeo proprio lo password diashkazi, Che ha provato, la voce Station, e zwrahah... 官 선ori è mai deciso ah ah, grazie ragazzi, ho sconete, ho seguito. senti usato, siccissimo prima cosa in sixth fando è buamente e quindi da vicini da�itala è box non ecco qua. Per parte di효o auguri O noi dovressi, si bright ja era una u2 a buona c'è l'armina di ritorno nananananana ferma vuol dire ci succede ecco una fusione che non possiamo sapere troppo non funziona c'è io sono ok non lo voglio nessuno ok ma baffamrodo io voglio dai chi lo voglio sicuramente non mi piace tantissimo dai 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 lo so che vuoi venire eccolo si si ballo tiro non uccidermelo eh ti odio ok confusione me lo uccide io ti guardo un altro e catturarlo perchè non posso neanche volerlo confusione me lo uccide calcio il rover e si si ma lo uccide allora prima ancora che mi aiuta non deve essere un po' molto bello poi tutti i movimenti è un'ottimalissimo si 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 Non puoi sparare con le tue leggi. Adesso, perché l'ho catturato uno mi faranno ripreso Teilu a livello 20.000. Qua qui non ho catturato, ma qui non ho catturato, ma qui non ho catturato. E si è catturato, ma qui si è catturato. Ehi, che è buono. Ma bisogna a Teilu una potenza soluta. Ok. Ti calo giù. Oh, ti do so di livello giù. Nice. Buono. Vai. Oh, ma... Si, si. No, 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 no. Beh, comunque ragazzi, io non ecco fuori e ci rivediamo giù. Ok gente, ci noti con livello 1, questo è il genere, lo vediamo. Ehi, livello 10 e qualcosina di xpia. E di direi come a fare. Ok, facciamo i banchi, il baccaratio, il piaccia. E, due baccaratio, ok. Molto bene. Allora, magari nemmo provare a questa cosiddetta, che non sembra una cosa più forte. Il signor Martin. Con il signor Martin. Tu hai il signor Martin, ma io non ho in casa. Bene. Mi senti buono qui. Questo è un'altra cosa faccia. E io non mi senti. Ma non mi senti. Ah, io non mi senti. 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 Ok. A posto. Il Bosco Smeralda. Il Bosco Petalo. 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 Il Pokémon non sono così interessanti. L'unico potrebbe essere... L'unico potrebbe essere... che però se abbiamo già quindi rimaniamo di battere un po' di un po' qui c'è un'uscita qui c'è un'uscita qui c'è un po' che ci sarà una piazzone della scoster ma quando c'è un'uscita dell'erba ci sarà sempre questa delle scoster magari non è sempre così più entri ma ci sarà come se non si èquote a questo essere buonissimo e finire l'unice finirei di andare ad un po' più e spari un po' rales perché ancora il numero è un po' più aggerino B B B B Ok, vai, B e B, andiamo, tu sono il piattere, sì. Quattro volte non è possibile, tre, che bella è, c'è. Così mi piacciono tre controlli del attore, mi piace tantissimo. Questa funzione della velocità è fantastica, cioè, antivorality, che via. E ok, ho un'altra, vieni a te, ah, non è vero, sì, vabbè, tokimun, tokig, 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 ok. E tu ti sei? Cos'è? Per questo questa volta ho trovato Shroomish, ma guarda, Shroomish è il 15%, lo puoi trovare nel tempo, ho appena guardato. Ah, se non ci amo, chi è? Oh, chi è? Io ho deciso una tappola, è super fattile, no? E non mi stia, 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 non mi stia. Non si, non mi stia, non mi stia, non mi stia, non mi stia. Ah, se non ho fatto poco, ho visto, no, no. Vai, è timido, ah, questo è il tuo nemico, è timido. Vai, non l'ai ammonto. Bukegna, l'unico Pokemon che non posso tu! Ah, non hai perdimento, non so se, affetto. Ma... oh mi ha fallito tutto il topic metti gli occhiali hai detto che si si mi sono andato più bordo si ah non ho detto non posso ciò che lo so sto girando i guatti vi ho una megawall oh grazie attenzione quel tipistello non ha detto che era soluzione c'è qualcosa tipo di bui si l'immaginato non ci sembra piattere vai andiamo yeee da 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 sbagliati credo che la risposta tu vai io lo trovo ah ma tu vai mi trova a entrare che cosa? perchè io lo stavo in acquisto mi piace di un targono dei due è un foto molto finissima è bellissima su questo cosa il floresta bel petalo cosa vuoi? ciao guardiamo tutto lo so si lo so ah potrei di andare delle altre se non è bellissima se non è bellissima 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 perfetto bella cosa ah non è bellissima sembra ok si ne E' una buona cosa, vediamo che si schifo di cosa, quando la manca o fa qualsiasi cosa Ok, tu sei un elettore simile, non è per me Calza la salita alle 11, questa è una buona cosa Quindi da un chilometro di distanza, calza alle 11 Cambiamo, mettiamo... ...doltre di andres Quatta, che non è un altro esempio Cora, non è una buona cosa, prima di vedere Però, voglio, non è un bel piano Oh, non è che, non la bella... Wow, che la stai giu? Mi senti, non hai Sho, non mi senti, non mi senti, non mi senti Molto, non mi senti nulla, non mi senti il giuro Oh, stai giu un bel coraggio di chiunque Ho, un po' di guardia di chiunque ma che la pia deve essere sempre più lunga perché fa tutto e se è veramente non ti ho bisogno di che fare e ti credo di un magick arpupio che è magick arpupio se la tre magick arpupio che è magick arpupio che è uguale che è uguale che è uguale che è uguale ma va costar si non è uguale ma perciò si non mi piace sono detto ok chiusa non ci guida ho fatto ho fatto ho fatto allora noi ci guardiamo perché E cos'è il segno? Cosa è il segno tagli? La medaglia? Che si chiama segno tagli? No! Oh, il mio dato taglio, se in serio? Non può essere stato fuori dalla lotta, deve venire a vincere la medaglia. Ah, ok! Se vinco la medaglia, quella di questa città, posso usare il taglio fuori dalla lotta, certo? Quindi, e... Poi la palestra, andiamo a distruggere la nostra giornata. Vabbè, dai! Sto giocando la palestra, ma non mi sono così, non mi sono così. Naa 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 naa! Ok, Cazzo dov'è essere il palestra? Ok... 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 Cosa è il nostro? Ciò fa a te? Dimmi cos'è? Noi c'è... Devo essere il nostro, non c'è o te! Qui c'è la palestra! Andiamo a parte! E' il suo vuoi? E' il mio dato! E' il mio dato! Va a parte! Sì! Soppa! C'è un'altro dal 10! D'altro dal 10! D'altro dal 10! Ah... L'ho detto! E' il mio dato è il doppio! Ci diamo di malissimo! Gelo, non è di serio! Rucinete di malissimo! ehi dai 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 quindi è malissimo è stata una notte molto intensa e più intensa è che non si fa e c'è capo e una cosa è un'ottima un'ottima lo so ok cominciamo con logica e poi in casa mettiamo rungere il team e allora poi Dottorci, per te che pensavo sono molto esattamente, ma fa lo stesso, ma la palestra deve essere proprio in fatto, se non sbaglio, perché mi sono informato sulle cose anche tecniche e sono troppo tv tv La mia palestra deve essere ipoteso, l'interessa non permessa come la palestra, quindi andiamo a questo scusso con laelenissima velocità di qua Si, si, o che gli altri due li abbiamo anche risparmi all'inizio contatto, direi di salvare tu come sei il tuo fianco, perché Niente adizione Allora quindi Start Salva con 9 Sì 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 Ok E poi File Salva Salva gioco File Salva gioco Slot 10 Ok Divino un po' E mi lanciamo Vai 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 C'è un loot 12 12 No Vai Porca di quella Ah vabbè ma ne posso Niente Pagata Non toglie niente Qui con Alce Ok Ok Mi scoprebbe essere un problema Ok Sono morto Sono serio Non lo so più Ok Ralzo Deve essere la mia strategia Ralzo Come è successo Oddio ho messo in pausa Ralzo Dieni qui Ralzo 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 Noi E' Noi 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 Qu'è Noi Qu'è 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 muoio, muoio, muoio non ce la farò mai mi ha bisogno di un box più super efficace con due tipi o un tipo erba un tipo erba che ho trovato nel boschetto si ok, ancio di gatto, nel boschetto dovrete fare smush il shroomish che dovrebbe essere un tipo erba culo e poi si può adesso dobbiamo andare nell erba selvatica qui e trovare uno smushish Noi ci sentiamo, appena l'ho trovata Ciao, ciao Vettore Teilu sta per compagare attacco d'ala Attenzione a Teilu Oggi ho uno sull'acqua E tu cosa cazzo sei? Ah, è morto Vabbè, ero un po' più rovente Voglio un teilu C'è stato Ero un po' peggio C'è stato Ciao, come ci cominci? E vai C'è stato Davido Non ti devo dire, lo potrebbe essere un'idea Perché io non so che hai come niente E non ti metterà come Stagg 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 Figati No, dai Sottisci Eccolo a me, cavalli Sì Ci vorrei c'è tornato l'altro Giù in giù No, guarda che super nome Adesso Io al Pokémon Sumi Mi dà Qui Eschiamolo un po' No, non gli ho dato su qua No, a me sono stupido Vabbè Dello stesso No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no No, no 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 ok gente sono tornato ce l'ho a livello 12 e quindi andiamo magari ci diamo la malissima no 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 non voglio perviare lo schifo no spaz nosell e sono le tavole Ooh pracodura a usciola per questo non vuole fare ma è tutto più chiaro ah non c'è una maglia pietra altissima un'ora non c'è tanto non so che la pene taglio si la 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 posso così insomma abbiamo taglio e attirondiamo ma ovviamente a scuola intanto alla fine le mp possiamo usarle quindi siccome io posso resistere già attimo che muo d'acqua muo d'acqua muo d'acqua o c'è più bassa non posso la costruzione vabbè allora non lo do oggi neanche per bagno non è grosso vediamo allora i livelli dei pochi attuali che ho sono sono buoni buono dire che per adesso ci stiamo un po' dentro non 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 Oh, è vero dove sono solo in merco, mi piace solo in merco E' un numero di merco e' un numero di merco Sì, no, 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 no. Sì, no, 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 no. No, 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 no. Sì, no, no. Un altro generoso dove bastava un altro, un palle. Uccidere, no, 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 no. E dove ti v прошlo? Oh, qui c'è una pò que bad. E hasto? Ah Vado a prendere tecco Tunnel mio inferno Tunnel mio inferno Ah eccolo il titolo Il titolo Non muoio male Non ci muoio Dimmi te Che succedo con te Un po' più ma madre Ma il tempo è un po' più inattito Se vuoi la tempo è inutile Ma come bella gli erifugò Visto come sono imbuttiliato Non ho tardi ho messo Non c***o scuri bokehni Io sono l'archi Ma basta c***o E... Attacco dalla Ah Oh Oh la mia carina è di terminale Voglio farci una carina in lar Non è giusto È giustissima Si è andata una volta faccia in faccia Ad oh semplicemente Non ho detto Si è andata a dirlo Ecco la tua Ho trovato una macchina Ah grazie Oh pecco Ah il pecco questo Ecco qui nella vita Sono stato un marino Ah ero acquistito Sono il cottage Bene Merlo Ti metti i cordi Non di niente Se ne sei chiamata Ah si Ho visto Andiamo a casa Ecco Faccio Ecco E' qua Ah si sta però C'è Chi è? Invece un manesco Ma non c***o 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 Un' power Ei We're making guida Un design Mi ha fatto Una una Bebord Ma... E rimane Sì Inizio Non c***o Ancione well Ma via e di consegnarmi dov'è che mi accomodo in piedi via angelo ciao Ciao Diego! Che bello! Che bello! Che bello! C'è nel dark, mettimi il prossimo gioco. Sennò vogliamo scontillare il dark. Quindi te ne vada quanti. Sì, è meglio creerci di cose. Ok, grazie. Sì, volentelo. Ok. Dobbiamo andare a blu già! E poi a conto se giove. Mappa? Vediamo. Allora. Noi siamo qui. Ok. Questi sono i topi. Questo dovrebbe essere un po' di soli. Questa è la montagna. Lugia dov'è? In una nuova, noi... Ah, ma c'è una minomboli! Ah, e qui c'è un lupo. Lugia è il bosto dove c'è la... Non so se fonda palestra, la battere se non mi ricordo male. E porti sui maioni, poi dovrebbe essere un bui, sì, Paolo, scendini. Quindi quello che vuoi fare è tornare alle Pitalipoli C'è qualche bosto qua dove c'è il Pottage di quel tipo. Questo? Sì. Beh, Pottage signor Barrio per cui devo andare. E l'auboli in chiedere andare sull'isolità fratellosa e dall'isoletta uscire a battere la pressa di Luzia e poi portare di qua eccetera eccetera comunque spero che questo episodio vi sia piaciuto io vi ringrazio per la visione vi ricordo di commentare e di lasciare un mi piace e di chiedere di utilizzare un mi piace perché ancora abito in fase di sperimentazione quindi devo ancora chiedervi se mi piace e rimanda il prossimo video che caricherò e